Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Skyrim. Allora, ok, ho fatto un pasticcio con la registrazione perché pensavo di registrare mentre noi praticamente eramo là. Oh, scusa. Prima di sono uscito solo dalla caverna, ho spiegato qualche pozione perché stavo per morire. Comunque ci abbiamo fatto e siamo qua fuori. Non abbiamo fatto niente di importante per la storia. Adesso ovviamente dobbiamo andare a Riverwood. Abbiamo sbloccato la mappa e Riverwood è qua. E questa città è qua, Riverwood, ok? Quindi, perfetto, dobbiamo arrivare là sotto a piedi. Tu mi volevi uccidere, vero? Sì. Uff, non posso. Wow, banzai. Ok. Ti posso saltare sopra la testa? Ok, non posso. Andiamo avanti. Ad... Ad... Come ti chiami? Scusa, Advar. Ciao, Advar. Io mi chiamo Blaster. Ok. Sì, Draghi. Ok. Ok. Perfetto. Dove sei? Ok. Eccoti qua. Che bello. Sì. I draghi, sì, stanno volando. Oh, ho sbagliato. Ok, di qua. Yey. Yey. Ok, spero che questa serie vi stia piacendo. Oh, qua ho visto un cartello. Riverwood. Perfetto. Spero che questa serie vi stia piacendo perché a me piace davvero tanto e sicuramente la porterò avanti. Questo episodio probabilmente sarà caricato lunedì o martedì, penso più lunedì. Comunque, andiamo avanti. Sì, sì, capisco. Ok. Di qua? No, dove? Ok, di qua. Un ponte! Lo so come va a finire con i ponti. Ah, no, non era un ponte, era una stazione. Perfetto. Attiviamo. Sì, accetto. Oh, che bello. Figata. Posso attivare anche le altre? Sì. Vabbè, sono tutti uguali. Ok. Oh, una volpe. Piccola volpe. Vieni qui. No, 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 cadi. No. Volpe! 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 Dov'è? Sono un assassino. Piccola volpe. Non lo dite al WWF. Per favore. Oh, che bello. Ho una volpe. No, 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 no. Avrei una degna sepoltura, volpe. Ti ricorderò per sempre perché stai roteando. Vai in mare. Piccola volpe. Ancora immuovi la zampetta. Perché lo faccio? Come ti... Io ti chiamerò... Volpi... No! Dov'è? Oh, Cristo. Ah, ecco. Vai in mare. Quasi sì. Che avrei una degna sepoltura. Ok, ciao, volpe. Ci ricorderò per sempre. Ti chiamerò... Ti chiamerò... Ok, non lo so. Andiamo avanti. Ma dov'è il nostro... Mitico eroe? Scusa. M'ero preso... Con una volpe. Oh, ok. Ok, dove sei? Vabbè, io vado avanti. A Riverwood. Chiudiamo dopo. Ok. Ok. Perfetto. Riverwood, dov'è? Ok, dobbiamo scendere il fiume. Ok, ci sono, ci sono. Quindi oggi saremo dei tonni. Andremo via il fiume che è più veloce. Che bello. Che bello. Perfetto. Riverwood. Aspettami. Saltiamo come delle pecorelle. Che cos'è là? Vediamo. Che cos'è? Ah, Riverwood. Già ci siamo? Già siamo a Riverwood? Ok. No problem, Molly. Sì, sì. E tu, Galina? Mi stai? Non posso colpirti perché poi tutti mi attaccheranno. Dallo. Sì, con te devo parlare? Si è un segnalino. Ok. Io. No, tu hai. Dei simpatici. Posso stare. Riverwood. Intanto. Cosa mi puoi dire di Riverwood? Ok. La prima. Ok, posso comprare. Quanti soldi ho? Niente. Oh. Un bello, un anello. Scusate. Un anello. Oppure. Questa tunica? No. Ti posso vendere io qualcosa? No. Ok, ok. Le draghe attaccheranno. Ok. Un dragone. Qui in Skyrim. Qual è questo mondo? Il Jarl Neff. Dobbiamo andare a lavorare il Jarl Balbraff in White Run per sentire qualsiasi soldi si possa. Ok. Missiona completata. Perfetto. Ora via. No, no, basta. Tab. Ok. Dobbiamo andare da qualche altra parte adesso. Vediamo. Sempre a Riverwood. Riverwood. No. Troppo lontano. Qua ci posso andare? White Room? Ah, così si piacciono i segnalini. Ho capito. Ho capito. Ma qua non ci sono carrozze e cose del genere. Così che posso andare direttamente là? No, ci dobbiamo andare? Che triste storia. Comunque. Stavamo dicendo. Ci posso andare via il fiume? Sì. Più o meno. Sì, sì. Intanto andiamo verso quel fiume che forse è più veloce. Così mi rallento. Come si fa ad andare più? No, no, no. Ok. Facciamo i tonni. Dai. Corrente del fiume. Trasportami tu. Siamo dei pesci. No, no. Perché hai tirato fuori l'arma? Ok. No, 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 no. Scoglio. Ai. Scoglio. No, cascata no. No, 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 no. Ecco, mi sono fatto male. Oh, salmone. No, 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 io mi faccio male. Mi faccio male. Non voglio, voglio uscire, voglio uscire. Cristo. Cristo. Aiutami. Oddio. Ok. Forse siamo arrivati. Siamo dei tonni. No, no, no. Ok. Che bello. Sì. Qual è la nostra destinazione? La vita si sta rigenerando. Perfetto. Questa che cos'è? Questa è White Room? No. Perfetto. Non è White Room. Noi dobbiamo andare a White Room. Mi sembra. Non mi ricordo. Ok. Ce la stiamo facendo. Dobbiamo fare la nostra missione principale. Come si entra? Come si entra? Non da qua? Da lì? Boh. Chi mi bersaglia? Sì, ho visto una freccia. Boh. Parkour! Ok. Sono... Chi non è più skillato di me? Ditelo. Ok. Andiamo. Saltiamo! Yay! 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 Ok, 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 ci siamo. Ci stiamo avvicinando. Posso salire di qua? Dai. Dai, so che ce la fai. Ok, no. Dove si sale? Ok, di qua. Perfetto. Sì, do colpe di spatate perché mi sento potente. Ok, ma di preciso dove dobbiamo andare? Ah, non dobbiamo andare qui. Oh, donnazione! Usciamo. Non dobbiamo andare di qui. Dobbiamo andare di più. Là sotto. Ma noi ce la faremo. Perché siamo dei cactus. Ok, basta. Oh! Tu mi ricordi tanto. Bobby. La volpe Bobby. Mi ricordi tanto lei. Ti annun... No. Mi ricordi tanto lei. Che brutte storie. Comunque, a parte le stronzate, andiamo. Di qua, giusto? Non vorrei sbagliare e perdere tempo. Perché si è bloccato il gioco? Ok. Lag. Lag. Ok. C'è stato un momento di lag. No! Abbiamo... Stiamo sbagliando. Come presumevo. Quindi là dobbiamo andare. No. Come... Cresta? What? Ma... Dove dobbiamo andare? Ok. Ok, ci sono. Di là. Cioè, di là. E poi girare. Ah! Dai! Saltiamo! Tanto siamo a circa 15 minuti di video. Questi video di Skyrim li farò durare dai 20 ai 30. Mentre di Minecraft i 20 più o meno. Sì, i miei video andranno dai 20 ai 30. Mile. Ok. Oh, un'alce! Devi morire! No, ma tu mi attacchi. Ok, basta. Stiamo andando nella giusta direzione. Ok, lo stiamo superando. Così? Ok, di qua. Quindi, là sopra evidentemente. Scaleremo la montagna. Ok, la gireremo. Non la scaleremo. Oh, stupida aspirapolvere. Spero che non si senta nel video. Scusate. Veramente. Polizia di casa. Spirapolvere. Per favore, non ti ci mettere anche tu. Ma qua è dove eravamo prima. Abbiamo semplicemente fatto il giro. Dobbiamo arrivare là. Ok, mi sto confondendo altrettanto. Ok, però ci stiamo avvicinando. Perfetto, ci stiamo avvicinando. È questo quello che conta. Ci stiamo avvicinando. Ok, di qua non si può andare evidentemente. Ah! Ok. Questo è Bottle Born Farm Disco... Ok, abbiamo scoperto la Bottle Ron... La Farm. Ok, vabbè. Dove dobbiamo andare? Mi sono perso. Dannazione a me. Dannazione a me. Spirapol... No, 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 no. Ok, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito. No, 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 no. Sali, sali. Ok. Ok. Intanto entriamo in questa città, primo. E poi ce la vediamo. Dai, dai, dai. Come si corre? Perché c'è un modo per correre? Ma adesso non mi viene in me. No, 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 no. Ho sbagliato. Forse così. Ah, no, così ci abbassiamo. Ok, così, ho capito, ho capito. Ok. Ok, siamo fatti male. Parkour! Ok, questo è lo stesso posto di prima, ho fatto una cavolata. Ne sono reso conto adesso. Ok. Ok. Però il segnalino è davanti a noi, quindi stiamo direggendo nella giusta... Nella giusta direzione. Corriamo. Ok. Spero. Ok, qua davanti. Ok, ho capito. No, ho sbagliato. Ok. Ok. Ok, dobbiamo entrare qua dentro. Posso entrare? Ok. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Caricamenti. Perfetto. Questo è White Rune. Perfetto. Sì. Segnalino. Ok, di qua. Spero. Che sia di qua. Ok, là. Ok, là. Dobbiamo arrivare là. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Bambini molesti, bambini molesti, bambini molesti. Bambini molesti. Ok. Questa è la scalinata. Ok. Ok, ragazzi. Dopo questa missione penso che... Cioè, che... Come si dice? Che smetteremo. Ok? Sì, va bene. Perché già siamo a 20 minuti di video. Perfetto. Vediamo. Oh, lag. Ok. Perfetto. Qui dobbiamo andare dal... Re. Oh, scusa. Ok. Ora voglio fare un po' di casino. Sì. Infatti mi vogliono tagliare la testa. Ah, sì. Me l'ho distratto un secondo. Sì, stiamo venendo da Elgin. Ah, è ancora tu il segnalino. Ah, è ancora tu. No, 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 no. Perfetto. Mi devo parlare a Fergineo Garner. Sì, ok. Perfetto. Ah, ah, bellissimo. Comunque. Anzi. Con questa schermata io vi saluto. Da qui il vostro cactus di fiducia, ovvero Let's Play 3000. È tutto. Quindi, ciao a tutti ragazzi. Ciao c'è. Ciao.